aprile il vento aveva soffiato impetuosamente dalla tarda serata entrando nelle intercapedini delle grondaie aveva emesso urla fischi e gemiti che gli avevano reso difficile prendere sonno molto prima dell'alba l'uomo era stato svegliato da un secco rumore proveniente dal terrazzo e la sarabanda non gli permise di riaddormentarsi subito immagini di fatti e persone lontane recuperati in qualche angolo sperduto della memoria si alternavano nella sua mente come fantasmi e il vento avesse riportato nella sua vita da luoghi tenebrosi ricordo uomini e donne che si erano persi in svariati modi ricordo amicizie affetti amori che si era lasciato alle spalle aveva sbagliato qualcosa con loro bastava avesse cambiato qualcosa qualche gesto qualche parola e tutto sarebbe stato diverso l'intera sua vita e forse anche la loro avrebbero preso altre strade piccole tessere isolate di un ampio mosaico sembravano adesso chiedergli di essere ricomposte in un disegno coerente ma l'uomo sapeva che una tale coerenza poteva essere ottenuta con moltissimi disegni e che nessuna ricostruzione era da privilegiare rispetto ad un'altra che cosa era il sapere se non il tentativo di dare un po di ordine alle tenebre al caos in cui siamo continuamente immersi e se tutte le ricostruzioni avevano lo stesso valore perché non riconoscere che il bello del passato è che è già passato quello del futuro è che non è ancora arrivato e che la meraviglia del presente sta nel fatto che è qui anche se scivola inesorabilmente nel nulla perché non riconoscere che il passato fu il presente è e il futuro sarà ciò che doveva deve e dovrà essere il vento continuava a soffiare urlare e fischiare ma l'uomo riuscì a fare il vuoto dentro di sé vide allontanarsi con il delirio di onnipotenza il senso di colpa tutti i fantasmi che erano venuti a ricordargli la confusione che c'è dietro ogni vita e precipitò nel sonno fuori dal tempo secondo il ragazzo con la camicia fuori dai jeans e rascosso dai singhiozzi le lacrime discendevano copiose sulle guance e sulla barbetta incolta e lambivano le punte dei lunghi capelli neri sul petto l'uomo gli chiese che cosa avesse ma il giovane non rispose e continuò a piangere come se quelle lacrime sgorgassero dalla profondità della sua anima dopo un terremoto che aveva ridotto a macerie quel poco di vita che egli aveva dietro di sé l'adulto ebbe voglia di avvicinarsi a quella figura esile proveniente da un lontano passato di abbracciarlo ma non lo fece temendo di peggiorare la situazione parlò piano cercando di trovare le parole per consolarlo non buttarti giù non credere di essere il solo a fare errori quelli li facciamo tutti ad ogni età animo la vita non è fatta di una sola giornata il passato è passato anche se niente si butta forza ciò che conta è adesso ogni momento è buono per ricominciare coraggio il futuro non esiste ancora ma è tutto il tempo che vuoi davanti a te tutto può cambiare in un istante i desideri talvolta si realizzano e anche l'impossibile può diventare possibile il ragazzo continuava a piangere coprendosi il volto con le mani sembrava nella sua disperazione non sentire neppure le parole che gli erano rivolte l'adulto temette che il giovane stesse maturando una scelta irrevocabile il prese a parlare con maggiore energia non farlo tu sei forte anche se non lo sai la vita è una sola ed è bella nonostante tutto non farlo la vita con te o senza di te non è la stessa cosa qualcuno crede in te qualcuno soffrirà immensamente per te non farlo non farlo non farlo il ragazzo taceva e piangeva 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 l'uomo si risvegliò prima dell'alba madido di sudore ma provò tenerezza e gratitudine per quel giovane che evidentemente non l'aveva fatto e che non facendolo gli aveva permesso di fare mille esperienze di vivere molte cose belle e di diventare ciò che oggi egli era maggio la cena era finita ma l'uomo e la donna erano rimasti sul terrazzo a guardare la sera che allungava le sue ombre sulla valle il cielo che diventava sempre più scuro facendo affiorare le prime stelle si erano sdraiati su due poltrone ed erano rimasti a sorseggiare una birra nel silenzio rotto da qualche uccello che volava sulle loro teste o dal rumore delle auto o del treno che passavano sotto di loro il discorso era scivolato su un argomento molto frequentato lei tentava di convincerlo a rinunciare alla sua esistenza solitaria e a mettere su casa insieme l'uomo era lusingato da questi tentativi come lo era stato da qualche altra donna che in precedenza aveva chiesto di avere un figlio da lui ma nessuna delle due cose nell'accasamento nella riproduzione lo interessava diceva che sempre la sua stirpe sarebbe finita con lui amava troppo in modo quasi felino la solitudine e la libertà per rinunciarvi e soprattutto sosteneva che le cose si trasformavano sempre indipendentemente dalla volontà delle persone per cui ciò che sarebbe sembrato inizialmente un trionfo dell'amore sarebbe ben presto diventato quasi inevitabilmente un inferno di silenzi pesanti di recriminazioni di rancori era meglio quindi continuare a godersi il tempo presente a cercare vanamente di immobilizzarlo i due erano diversissimi tanto lei detestava la precarietà delle cose quanto lui diffidava proprio di ciò che pretendeva avere i caratteri della stabilità a notte fonda e a birra finita l'uomo prese la ragazza per mano e la portò in casa avrebbe voluto che capisse che qualsiasi cosa poteva essere condannata in quanto non rispondente alle nostre aspettative o poteva essere amata per se stessa per il fatto che essa come noi c'era voleva che lei riuscisse ad amare ciò che è piuttosto che dar troppo credito alle proprie idee ai propri desideri ai propri bisogni ma tale comprensione poteva anche aspettare per quella notte trovarono di meglio da fare giugno erano giunti insieme erano entrati cautamente ciascuno nella vita dell'altro e poi senza un perché lei era scomparsa non rispondeva più ai messaggi dell'uomo anche se essi contenevano solo saluti ed evitavano accuratamente di formulare qualsiasi richiesta lui che sapeva non essere indiscreto e rispettare le altrui scelte non avrebbe mai osato telefonarle o cercare di incontrarla aveva letto da poco un'antica storia cinese che parlava di un contadino a cui erano fuggiti 30 cavalli e che per questo era stato compianto da vicini e parenti e chi può dire che sia una disgrazia aveva domandato loro il vecchio infatti poco tempo dopo i suoi cavalli fuggiti erano stati ritrovati insieme a dieci nuovi puledri e coloro che lo avevano compianto erano tornati da lui per congratularsi della fortuna inaspettata e chi vi dice che sia una fortuna il vecchio aveva detto loro infatti di lì a poco il figlio tentando di domare uno dei nuovi cavalli era caduto e si era che sia una disgrazia infatti pochi mesi dopo era scoppiata la guerra ed il figlio non era dovuto partire proprio per la sua invalidità ancora una volta erano arrivate le congratulazioni per il fortunato evento e chi vi dice che sia una fortuna anche l'uomo ogni volta che si avvicinava al computer e trovava la sua posta elettronica priva di messaggi di lei evitava di compiangersi e si diceva e chi può dire che sia una disgrazia un giorno il miracolo avvenne lei era tornata a farsi viva e forte fu per lui la tentazione di congratularsi per il lieto evento ma aveva imparato bene la lezione del saggio contadino cinese e chi può dire che sia una fortuna si disse sorridendo prima di rispondere luglio l'uomo viveva ormai solo rapporti di amicizia o di occasional love nel caso con qualche amica vi fosse un reciproco interesse erotico bene nel caso mancasse o fosse non condiviso bene lo stesso forse era immaturo per un rapporto di coppia ma pensava che la vera maturità fosse nell'accettarsi per quello che si è nello smettere di sentirsi inadeguato e non seguire la propria strada che anche se non porta da nessuna parte come del resto avviene per tutte le strade è pur sempre la propria credeva fosse molto semplice scoprire in sé e in ciò che lo circondava cose che non erano come dovevano essere avrebbe dovuto fare dei programmi porsi degli obiettivi fissare delle scadenze certo come tutti poteva esercitarsi a sognare un se stesso o un mondo migliore peccato che dietro ad ogni traguardo raggiunto e dietro ad ogni trasformazione realizzata vi fosse la pressante richiesta di un nuovo percorso verso un altro traguardo o di un nuovo impegno in vista di nuove trasformazioni all'infinito e non era affatto sicuro che vi fossero progressi o miglioramenti quelle della sua crescita e sul progresso gli sembravano chiacchiere consolatorie più che crescita vedeva nella sua vita o forse anche fuori di essa tentativi, scarti spostamenti di prospettiva nuove gerarchie di valori nuovi linguaggi, nuovi paradigmi nuove mappe concettuali nuovi strumenti di un lavoro di interpretazione infinito in cui anche le stesse interpretazioni dovevano continuare ad essere reinterpretate in cui tutto perdeva il suo senso assoluto ed acquistava sensi temporanei, frammentari deboli e nuovi e non per questo migliori dei precedenti ma di una cosa era sicuro il mondo, lui compreso era il solito caos ma la sua vita era assai più soddisfacente da quando aveva imparato ad apprezzare il viaggio con tutte le sue incertezze più della sua meta qualsiasi essa fosse agosto per tutto il pomeriggio l'uomo era rimasto sprofondato in una zona ombreggiata del suo terrazzo nella sua amaca e in un romanzo di Conrad erano anni che leggeva e leggeva ed era sempre stupito per come le parole di un libro avessero la capacità di portarlo in un'altra vita quasi di fargliela vivere certo leggendo era solo uno spettatore ma gli sembrava che le cose non fossero troppo diverse dalla vita reale anche agendo lo spettacolo del mondo restava meraviglioso e orribile in ogni caso imprevedibile la giornata era stata caldissima sin dal mattino ma adesso nuvole sempre più scure si addensavano nel cielo i rumori dei tuoni lontani e le folate di vento freddo e impetuoso annunciarono il temporale imminente si era alzato dalla maca e dal libro mentre sentiva continui borbotti cadenzati da scoppi più forti e mentre qualche goccia isolata cominciava a cadere la valle era chiusa dentro una nube nera chiazzata solo da qualche isolato lembo di grigio il vento curvava gli alberi vicini sotto di lui e quelli che ormai a stento intravedeva alle pendici dei monti frequenti lampi squarciavano l'aria e il boato dei tuoni si faceva sempre più assordante era rientrato dal vetro vedeva che le gocce d'acqua isolate avevano lasciato il posto a veri e propri scrosci che sembravano onde più rapide al centro della valle più lente verso le montagne il rumore assordante di acqua, vento e tuoni copriva tutto ogni cosa sembrava mutolita di fronte alla potenza che la natura stava dimostrando poi lentamente tutto il frastuono si allontanò verso Levante il vento calò e anche la pioggia cominciò a diradare il temporale era stato violento ma breve l'uomo uscì nell'aria divenuta quasi fredda e fu colto da un improvviso senso di straniamento anche lui che aveva sognato di essere nel bel mezzo di un tifone sull'oceano o era il capitano McQueer che aveva sognato di osservare un uragano tra le alpi settembre era andato il funerale di un conoscente l'ultima volta che era entrato in una chiesa era rimasto colpito dalla predica di un prete missionario suo amico incentrata sul sangue di Cristo come dono per i propri fratelli come sacrificio di sé che porta ad una pienezza che nessun egoismo appropriativo potrà mai raggiungere l'uomo che si riteneva ateo si era trovato gli occhi pieni di lacrime nel sentire quel uomo grosso e apparentemente burbero parlare del sangue di Cristo incontrato nelle strade e nelle carceri tra prostitute, ladri, assassini e reietti di ogni tipo figli di Dio quanto o forse più di tanti credenti a tratti solo del rituale e dalla speranza e quelle parole erano cadute su gente altrettanto commossa che aveva addirittura applaudito il prete che sarebbe presto tornato ai suoi poveri lasciando i ricchi alla loro miseria adesso davanti alla bara così simile a quelle che avrebbero raccolto prima o poi le spoglie di tutti i presenti c'era invece una figura segaligna che biascicava parole sulla salvezza eterna sul lume perpetuo chi poi ne avrebbe pagato la bolletta si era detto l'uomo sulle gioie della comunione con i santi e con i defunti nostri cari tutte parole che trasudavano la malattia di chi non riusciva ad apprezzare la vita che gli era data e l'egoismo di chi voleva ben altro dei pochi anni a sua disposizione e per ottenerlo era disposto a tutto ad umiliarsi ad implorare e a pregare come se tali azioni avessero qualcosa a che vedere con l'amore l'uomo approfittava del fatto di non essere riuscito a trovare un posto a sedere per non seguire il movimento ritmico dei corpi e soprattutto evitava di partecipare al dialogo tra il parroco e i suoi fedeli solo quando il prete invitò a scambiarsi un segno di pace strinse qualche mano e poi alla chitichella se ne andò felice di allontanarsi da tanta fede e tanta speranza ottobre aveva comprato il giornale e aveva gettato un'occhiata sui titoli camminando il disordine del mondo era costante e l'ingiustizia trionfava ma cosa garantiva che le cose in passato fossero state davvero migliori e cosa garantiva che in futuro sarebbero effettivamente migliorate si disse sorridendo che forse non si può essere ferventi reazionari perché non c'è nessun posto a cui tornare così come non si può essere ferventi progressisti perché non c'è alcun posto dove andare poteva lamentarsi di essere una minuscola pedina di un gioco creato da altri ma poteva anche ringraziare di avere la possibilità di giocare poteva lamentarsi del suo lavoro, della sua casa, delle sue relazioni ma poteva anche benedire il fatto di averli pensò che non c'è alcuna condizione umana di per sé felice o infelice che la stessa situazione può essere fonte della più grande frustrazione o della più piana felicità certamente non credeva che quello in cui in quel momento viveva fosse il migliore dei mondi possibili ma sapeva che era l'unico esistente e si trovò a rifiutare il meccanismo tipico degli uomini di privilegiare ciò che hanno nella testa desideri, sogni, bisogni, speranze, progetti, pensieri miti, credenze, ideologie rispetto a ciò che c'è fuori di essa la vita di tutti, non solo la sua era insensata a cosa servivano tutti gli sforzi degli uomini se a prescindere da come essi la conducevano sarebbero tutti finiti ridotti a carne per verbi o a fumo e cenere si ricordò di un antico mito quello di Sisifo un personaggio la cui ombra era costretta nel tartaro a sospingere un masso per una ripidissima collina era giunta nella sommità e farlo rotolare verso valle per ricominciare il suo lavoro per l'eternità ma ricordò anche le parole di Camus anche la lotta verso la cima basta riempire il cuore di un uomo bisogna immaginare Sisifo felice novembre aveva visto un film che amava la storia di un quarantenne perdente e imbranato che esce dal suo torpore infatuandosi per una ragazzina compagna di sua figlia divenendo amico di un giovane spacciatore e cancellando la vecchia vita rinuncia al lavoro ricattando il suo superiore per una grossa liquidazione si mette fisicamente in forma compra l'auto dei suoi sogni trova un nuovo lavoro assolutamente privo di responsabilità e si libera dalla sudditanza e dai ricatti affettivi della moglie intanto sua figlia si innamora del ragazzo che rifornisce suo padre di erba egli schiacciato da un padre ex colonnello marin macio, violento e militarista l'aveva colpita soprattutto con un filmato su una busta di carta che danzava nel vento come una bambina che lo supplicasse di giocare realizzato il giorno in cui aveva capito che c'era un'intera vita dietro ogni cosa e un'incredibile forza benevola che voleva sapesse che non c'era motivo di avere paura mai alla fine il quarantenne rifiuta le profferte sessuali sia della ragazzina di cui aveva scoperto la fragilità sotto l'apparente sicurezza sia dell'ex marine che si era rivelato un omosessuale è uccisa da quest'ultimo per il suo rifiuto e con la voce fuori campo riprendeva le stesse considerazioni del giovane spacciatore potrei essere piuttosto incazzato per quello che mi è successo ma è difficile restare arrabbiati quando c'è tanta bellezza nel mondo a volte è come se la vedessi tutta insieme è da troppo il cuore mi si riempie come un palloncino che sta per scoppiare e poi mi ricordo di rilassarmi e smetto di cercare di tenermela stretta e dopo scorre attraverso me come pioggia e io non posso provare altro che gratitudine per ogni singolo momento della mia stupida piccola vita l'uomo con gli occhi lucidi per l'ennesima volta aveva sentito quelle parole come se scorgassero dalla profondità del suo animo fuori dal tempo tre sì, può accadere ancora nonostante gli anni trascorsi dentro stanze da muri cadenti e mobili faticenti parlando sempre di persone dall'io debordante o convinti di dire la parola definitiva su problemi importantissimi del resto solo le domande di scarso lirievo trovano solide risposte o di prendere la sola decisione capace di aggiustare il mondo incasinandolo di solito un po' di più può ancora accadere certo il tempo che passa si fa sentire in molti modi nel fastidio per le persone dall'io debordante che continuano a voler pronunciare la parola definitiva o che si sentono inviati dalla provvidenza per aggiustare le cose e senza di loro andranno sempre di male in peggio nell'insofferenza per i chiacchieroni che portano fatti e dati a sostegno delle proprie tesi come se non vi fossero fatti e dati per qualsiasi tesi nei figli di ex studenti che cominciano a far capolino in stanze molto simili a quelle da cui erano passati i loro padri e le loro madri nelle parole che dopo essere passate sulla punta della lingua scivolano dietro le piglottide e poi giù giù nell'esofago nello stomaco negli intestini solo per il gusto di non farsi trovare da te certo il tempo passa ma può accadere ancora può accadere ancora che qualcosa si riveli nello sguardo nelle parole nel sorriso di qualche giovane ragazzo o ragazza e allora quasi per magia scompaiono gli ego ipertrofici di ieri e di oggi scompaiono tutti quelli che sentendosi il sale della terra di solito la rendono un deserto tacciano i chiacchieroni e pur nella consapevolezza che la vita farà di quei ragazzi e di quelle ragazze quello che vuole come ha fatto per le generazioni passate e come farà per quelle future quel qualcosa ti fa rendere conto che hai il privilegio di fare ancora il lavoro più bello del mondo e in quello sguardo in quelle parole in quel sorriso trovi un po' di quella bellezza che ti fa essere grato agli dei di averti permesso di fare quel mestiere e di coglierla dicembre una fontana attrasse la sua attenzione l'acqua congelata si innalzava verso il rubinetto creando una piramide di ghiaccio che arrivava a lambire il rubinetto metallico da cui fluiva un rivolo liquido era rimasto colpito dalla precarietà di quella struttura sarebbe bastato non nulla per distruggerla e per riportare la fontanella alla mediocrità di sempre il bello avrebbe lasciato di nuovo il posto al brutto la durezza della pietra avrebbe ripreso il sopravvento sulla fragilità del ghiaccio si sentì commosso quante cose erano fragili come quella scultura quanti esseri naturali vivevano per un attimo per pochi mesi o per pochi anni prima di sprofondare nel nulla da cui erano venuti per lasciare spazio a nuove creature che ben presto avrebbero fatto la stessa fine che senso aveva questo continuo cambiamento di forme che nessuno sarebbe mai riuscito a interrompere o a controllare e per cui bello e brutto vero e falso buono e cattivo si trasformavano sempre l'uno nell'altro l'uomo avrebbe potuto fare qualcosa per salvare la scultura di ghiaccio no non poteva appropriarsi né di essa né di nessun'altra cosa importante o forse di nessuna cosa e basta poteva soltanto lasciarle essere e pensò che forse è proprio la volontà di possesso che produce le sofferenze più atroci la sofferenza di chi vuole possedere ciò che non ha di chi teme di perdere ciò che ha di chi rimpiange ciò che non ha più l'uomo avrebbe potuto maledire il tempo il mutamento la fragilità la vita il destino il caso e poteva maledire anche quello stupido pezzo di ghiaccio su cui rifletteva da diversi minuti come se fosse un'opera d'arte ma gli sembrò più facile più utile e soprattutto più bello benedirli e un po' di quella benedizione laica forse blasfema rivolte nei giorni in cui molti uomini cerebrano il natale anche verso un inutile pezzo di acqua solidificata ricadde su di lui fuori del tempo quattro nella pizzeria era entrata una coppia di giovani gli occhi dell'uomo erano caduti distrattamente su di lei e lei aveva intercettato lo sguardo del suo accompagnatore si erano riconosciuti il giovane appena entrato si era avvicinato al tavolo e invece di stringersi semplicemente la mano si erano abbracciati quasi fossero vecchi amici non si vedevano da una quindicina di anni e in poche parole dovevano gettare un ponte su tutti quegli anni passati e sui loro diversi ruoli l'uomo era stato un insegnante del giovane e lo ricordava come non particolarmente curioso o brillante né tanto meno studioso ma simpatico leale sempre sorridente ironico aperto e generoso come lo sguardo che aveva riconosciuto uno dei tanti studenti a cui si può insegnare più facilmente la strada che non vogliono prendere la tua che è quella che poi effettivamente seguiranno il giovane gli aveva accennato ad una laurea in economia e commercio ad un lavoro nel settore immobiliare ad una vita soddisfacente a cui forse contribuiva la bella ragazza che era con lui si erano salutati e si erano poi scambiati qualche parola sulla rete per ribadirsi che era stato bello ritrovarsi una decina di giorni dopo l'uomo stava ascoltando distrattamente un telegiornale la giornalista parlava di una slavina di vani soccorsi di morte di un nome l'uomo aveva affidato alla rete la sua speranza in un'omonimia ma essa gliel'aveva negata non avrebbe avuto bisogno di altre conferme che la vita balla sui piedi del caso che il mondo è un continuo flusso e riflusso di forme un divenire instancabile un creare eternamente se stesso e un distruggere eternamente se stesso che gli dei danno solo per togliere e tutto ciò che abbiamo lo perderemo l'uomo con gli occhi lucidi si disse che questa conferma se la sarebbe risparmiata volentieri fuori dal tempo 5 l'uomo e la donna scorrevano davanti al computer le foto scattate da lei che aveva cominciato a guidarlo tra le immagini lo spingeva ad osservare le sfumature del colore in ogni ora del giorno e della sera ricordandogli un bel film di ambientazione new yorkese in cui un tabaccaio Harvey Kettle come un metropolitano monaco zen fotografa lo stesso scorcio della città per anni alla stessa ora del giorno per cogliere la ricchezza infinita che c'è dietro ogni cosa mentre indicava piccoli dettagli delle foto lei aveva appoggiato una mano sul piano al di sopra della tastiera vicina alla mano dell'uomo i loro indici si erano cercati ed avevano cominciato ad accarezzarsi bastò il contatto delle sue dita per eccitarlo dopo un po' la fece alzare abbracciò e cominciò ad accarezzarle la testa giocando con i suoi capelli ad accarezzarle la schiena scendendo pian piano verso il basso anche lei lo stringeva anche lei lo accarezzava il linguaggio dei loro corpi stava sostituendo quello delle parole l'uomo la fece sedere sul divano e si affiancò coprendola il volto di Baci cercando le labbra facendo continuare le loro lingue la danza che avevano cominciato le loro dita l'uomo sentiva i gemiti di lei sempre più intensi poi la donna si alzò e lo condusse per mano nell'altra stanza lo spogliò spogliandosi lo spinse sul letto e continuò con maggiore energia a giocare con la bocca con le mani con tutto il corpo i loro respiri erano sempre più affannati i loro corpi si agitavano come se fossero diventati indipendenti da loro lui sentì i brividi salire dalle sue membra gli tornarono alla mente alcune parole di un poeta fallo 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 fino in fondo fino in fondo cavalcherai la vita fino alla risata perfetta è l'unica cosa giusta che esista e infine crollò su di lei stremata come lui felice come lei grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti